Domenica 22 ottobre, dalle 7 alle 23, nei seggi elettorali, referendum per l'autonomia. Informati su www.regione.lombardia.it Che mi ha di pagare, no? È stato facile? Sì, ho sempre votato. Ho provato anche a sistemare adesso il referendum, molto più facile, però anche che andare a fare il voto è sempre più facile. Buon voto a tutti! www.regione.lombardia.it